a volte ma si può riuscire a rilassare la prendita ma si viene a andare sono fermati non c'è la crema ma che torna E ora, non mi tempo, arrivo, guarda qua come vengo giù Eh, eh, vedi a te Prendi a passare? Eh certo E vedi che non siete marinai giusti Questo vorrei sapere se lo avevo io Allora, non cercava di bocciare di tomacolo, lo lasciate Eh va bene, guarda, aggrupali Ci prepariamo per la pesca E la pesca quando comincia allora? Eh, la pesca noi siamo sempre Siamo sempre a pesca Ma questo qui è il posto delle alici Sì, allargo però eh Sì, è misto Sì? Sì Perché abbiamo sentito parlare E ci sono dei zingari Ma Zingari nel senso Non amare Ma ormai Allora, questa barca l'hai dedicata a tua mamma? Sì, sì Mio padre l'ho dedicata Ah, tuo padre Mio padre ancora È del 58 Questo qua è del 58? Sì, questo qua è del 58 Allora chissà Allora, allora Chissà quante pesci che ha preso Mi ha preso tanti Parecchi Parecchi Eh sì Ma Questa era una vostra forma di Non dico di lavoro, via Nooo Questa è un hobby, un divertimento È un hobby Però ci sono i pescatori, i professionisti, uno, due, tre, tre barche che vivono di pesca. Noi il dilettantismo, che però ci porta a divertirci. Grazie.